Proprio da ieri e quindi sostanzialmente da oggi è entrato in vigore il nuovo sistema Concilia Web che è un sistema più veloce, più vicino ai cittadini e soprattutto più facilmente accessibile perché è sufficiente avere una app oppure sul proprio telefonino, sul proprio cellulare per poter chiedere immediatamente l'interruzione del servizio che eventualmente non è stato richiesto per ottenere lo scioglimento, la risoluzione del contratto stipulato aventi ad oggetto una pay tv o comunque per ottenere una propria giustizia in ordine appunto ai disservizi che sono legati normalmente ai contratti aventi ad oggetto servizi di comunicazione telefonica e comunicazione elettronica Proprio per servizi non richiesti ci sono spesso le più grosse controversie Sì certo, diciamo che in effetti già con la legge sulla concorrenza questo problema è stato fortemente affrontato anche su proposte di alcuni componenti dell'Agicom perché in realtà oggi non è possibile, non è più facile avere dei servizi non richiesti perché comunque è previsto che qualunque servizio fornito all'utente deve essere preventivamente accettato e il consenso dell'utente deve poter essere provato e dimostrato quindi in caso contrario il servizio non richiesto dà sicuramente diritto all'utente di rivolgersi anche ai Corecom per ottenere appunto il rimborso delle somme eventualmente illegittimamente pagate e quindi per ottenere diciamo la cessazione del servizio appunto che non è stato richiesto e per il quale non è stato fornito il consenso Malgrado adesso il sistema sia stato tutto digitalizzato e informatizzato anche per adeguarci alle nuove tecnologie tuttavia resta sempre ferma l'utilità delle postazioni fisse del Corecom Sicilia che come voi sapete sono presenti già a Palermo e a Catania noi stiamo per aprire e dovremmo aprire a breve a renderla operativa anche una sede a Messina perché tutti i soggetti deboli, i cosiddetti utenti deboli, cioè coloro che non hanno l'abitudine a utilizzare internet possono comunque rivolgersi a queste postazioni per poter inoltrare le proprie richieste ai Corecom quindi comunque il Corecom è sempre presente ed è sempre pronto nei confronti di tutti i cittadini di tutti gli utenti che ne hanno necessità a fornire il proprio supporto per avviare una procedura conciliativa online quindi questo è un passaggio molto importante, c'è il nuovo sistema di concilia web che sicuramente renderà più celere tutta l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tuttavia è presente anche con una postazione fissa per gli utenti che non utilizzano internet proprio nelle sedi che io ho appena citato che sono Palermo, Catania e a breve, speriamo dopo la cosa estiva ci sarà anche la sede di Messina Il nostro sistema già negli anni scorsi ha dato un risultato eccezionale l'anno scorso nel 2017 oltre 100.000 istanze sono state presentate presso i Corecom con oltre 80% di esito positivo e oltre 40 milioni di euro restituiti agli utenti da oggi sarà ancora più facile perché l'utente non sarà più tenuto a venire fisicamente qui al Corecom ma potrà fare da casa, avviare la procedura, seguirne tutti i passi e anche svolgere se vuole l'udienza di conciliazione in web conference In molti settori dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo ormai la mediazione telematica e soprattutto laddove è meno necessaria l'empatia e il rapporto in presenza è possibile ed efficace la mediazione online, la mediazione telematica Grazie Grazie Grazie